La gara è illegittima ma non si può annullare, per questo è un delitto perfetto, messo in atto con eccesso di potere da parte dello Stato. Lo ha detto il Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio nel corso di una conferenza stampa alla Mise sul parere dell'Avvocatura dello Stato sulla gara di aggiudicazione dell'ILVA di Taranto al Colosso Ancelor Mittal, aggiungendo che non ci saranno proroghe all'amministrazione straordinaria dell'ILVA che scade il 15 settembre. Durissime le reazioni del mondo politico pugliese alla sortita del Ministro Di Maio sul parere dell'Avvocatura dello Stato. Nessuno tranne il Ministro ha letto il parere, ma tutti contestano le affermazioni del plenipotenziario grillino. Il servizio di Francesco Rossi. La gara è illegittima ma non si può annullare, per questo è un delitto perfetto messo in atto con eccesso di potere. Lo ha detto il Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio nel corso di una conferenza stampa al Ministero dello Sviluppo Economico a Roma sulla parere dell'Avvocatura dello Stato sulla gara di aggiudicazione dell'ILVA di Taranto ad Arcelor Mittal. Mittal, ha aggiunto, è sempre stata in buona fede. Il delitto perfetto lo ha fatto lo Stato, creando una procedura piena di vizi e illegittimità. Il Ministro ha poi aggiunto che se un'azienda ci richiedesse di partecipare alla gara, ci sarebbero le ragioni di opportunità e noi potremmo revocarla. E ha sottolineato che saremo al tavolo con le parti sociali. Un accordo che porta lavoro a Taranto, ha affermato, rappresenta l'interesse pubblico attuale e concreto da tutelare, che eviterebbe la revoca della gara. Il Ministro ha poi precisato che non ci saranno proroghe all'amministrazione straordinaria dell'ILVA che scade il 15 settembre. Immediate le reazioni politiche a questa sortita del Ministro 5 Stelle. Chi non tace sino a quando non si conoscerà il testo ufficiale del parere dell'Avvocatura dello Stato su ILVA è un Luigi Di Maio qualsiasi, ha affermato Fabiano Amati, presidente della Commissione regionale pugliese, al bilancio. L'unica cosa da fare, prosegue Amati, è richiedere la pubblicazione del parere, disinteressandosi dei commenti di Di Maio. Altrimenti, anche per la questione ILVA, Di Maio si garantirà l'immunità per il delitto di pessima amministrazione. Sulla vicenda è intervenuto anche Raffaele Fitto, leader di Noi con l'Italia. Ma cosa significa che è stato compiuto il delitto perfetto, che la gara che assegna l'ILVA è illegittima ma non si può annullare? Il ministro Di Maio la smetta di parlare per spot come se fosse in una campagna elettorale ad oltranza. In nome di quella tanto sbandierata trasparenza renda pubblico subito il parere dell'Avvocatura di Stato, peraltro da lui richiesto, e si proceda di conseguenza. Se è legittima si va davanti, se è illegittima, Di Maio si assuma la responsabilità di annullarla. Anche Forza Italia Puglia ha detto la sua attraverso un intervento del senatore Luigi Vitali, vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, nonché segretario regionale di Forza Italia. Di Maio sta cercando l'appiglio giuridico per chiudere l'ILVA buttando a mare 14.000 operai e le loro famiglie, così realizzando quanto promesso in campagna elettorale. Ci avviciniamo alla scadenza della proroga senza alcun risultato positivo. Di certo i lavoratori e le loro famiglie non possono e non devono rischiare il proprio futuro lavorativo e non solo. In quella fabbrica non ci sono manutenzioni, i lavoratori rischiano la vita ogni giorno. Basti pensare, continua Vitali, che ad ogni temporale le officine elettriche si allagano.